Musica Bentrovati all'edizione della notte del TG6 In apertura la visita in Abruzzo del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni che questa mattina ha raggiunto dapprima Campotosto e poi Capitignano qui nella visita aperta ai giornalisti ha inaugurato la scuola d'infanzia del Paese Gentiloni ha parlato anche e soprattutto ovviamente di ricostruzione ha assicurato una ricostruzione accelerata anche dal punto di vista della burocrazia grazie alla collaborazione fra gli enti andiamo ad ascoltare il resoconto della mattinata nel servizio realizzato da Paolo Renzetti mattinata abruzzese per il Premier Paolo Gentiloni che ha visitato le zone terremotate in provincia dell'Aquila prima Campotosto con la diga di Campotosto e poi Capitignano dove ci troviamo e dove proprio alle nostre spalle qualche ora fa ha tagliato il nastro per l'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia di Via Roma qui nel piccolo centro in provincia dell'Aquila abbiamo bisogno di certezza, abbiamo credo un impianto legislativo che fornisce gli strumenti amministrativi e economici per la ricostruzione anche se ripeto contenti che non saranno semplici e abbiamo bisogno di un qualcosa che non è soltanto l'istituzione che può dare ma che è qualcosa che la comunità, le nostre famiglie, i nostri comuni lo spirito di comunità che anima le terre abruzzesi ci deve dare e cioè la speranza perché quello che colpisce in quanto è accaduto nell'ultimo anno è la ripetizione dei fenomeni che abbiamo visto e di fronte a ripetersi di fenomeni come questo peraltro un ripetersi non nuovo in queste terre d'Abruzzo è straordinario vedere come comunque ci sia una volontà di continuare di ricominciare, di riaprire attività imprenditoriali di inaugurare scuole, di continuare ad abitare questi luoghi una scuola che si inaugura è un inno al futuro ha detto il Premier, dobbiamo andare avanti tutti insieme in questa ricostruzione post terremoto ha detto il Presidente del Consiglio arrivato qui in Abruzzo assieme al Commissario per la Ricostruzione Vasco Errani accompagnato anche dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso mantenere viva la speranza e fare il più possibile per una ricostruzione accelerata e quello che ho assicurato naturalmente ai sindaci è che oltre all'impianto legislativo e finanziario che è in campo in modo evidente ci sarà da parte del Governo e mia personale un impegno continuo per esserci e per dare una mano intanto abbiamo preso atto della capacità dell'invaso di Campo Tosto non solo di trattenere acqua e di produrre energia idroelettrica ma anche di rendere certa la sicurezza noi tenevamo a questi tre aspetti la capacità idroelettrica, la capacità anche idrica per l'economia agricola e poi soprattutto che tutto fosse in sicurezza anche per corrispondere a quell'assurda posizione comunicato della Commissione Grandi Rischi a distanza di quasi 12 mesi ormai noi siamo nella condizione di poter dire che quell'impianto è stato verificato e anche validato ulteriormente ci sono tutti i documenti sia di protezione civile che di eventuale evacuazione poi abbiamo ragionato con i vertici di Enel con l'ingegner Starace alla presenza del Presidente Gentiloni per fare in modo che sia certo il programma di investimenti annuali quanto alla rete che distribuisce la copertura elettrica in Abruzzo ho detto anche che mai più deve verificarsi che la neve possa interrompere l'erogazione dell'energia elettrica noi abbiamo la struttura normativa più adeguata possibile mai abbiamo avuto una struttura normativa come quella di questo terremoto abbiamo le risorse finanziarie abbiamo le risorse anche umane adesso quello che c'è è da mettere in rotazione questa produzione industriale che sarà la macchina della ricostruzione la situazione a Capitignano la luce delle ultime scosse è brutto dire ci sono persone che si stanno assuafacendo a questo non va bene da un punto di vista è chiaro, non bisogna perdere la speranza, la pazienza la forza dei volontari di andare avanti noi già abbiamo a monte dal terremoto del 24 agosto culminato il 18 gennaio con epicentro a Capitignano proprio diciamo c'è stato uno spostamento delle persone verso il progetto case dell'Aquila adesso stiamo realizzando, stiamo procedendo a tappe forzate grazie anche all'impegno forte della posizione civile abruzzese e nazionale con la costruzione delle SAI noi costruiremo adesso in questa fase 18 SAI quindi 18 famiglie torneranno a Capitignano credo entro la metà di novembre e questo ci dà una soddisfazione io chiedo al Presidente del Consiglio innanzitutto diciamo di velocizzare tutte le procedure dare più potere ai sindaci e se è il caso crediamo che sia indispensabile poter fare, istruire le pratiche dai comuni stessi Tutte le scuole danneggiate saranno riparate questa è la rassicurazione che sempre nella mattinata a Capitignano ha fatto il Commissario per la ricostruzione Vasco Errani ma è polemica perché il Sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha chiesto a Governo e Regione di passare dalle parole ai fatti finanziando i comuni per assicurare che l'anno scolastico che sta per iniziare abbia un seguito anche dal punto di vista della sicurezza degli edifici scolastici con fondi certi per gli enti comunali non solo per quello di Chieti ovviamente ma per tutti i comuni colpiti dal sisma e per tutti i comuni dell'Italia che hanno problemi strutturali con gli edifici scolastici vediamo insieme le dichiarazioni del Sindaco Umberto Di Primio Guardi, noi come comuni abbiamo la vulnerabilità sismica già verificata su tutti gli immobili pubblici compresi le scuole la vulnerabilità sismica lo dico una volta per sempre una volta in più non vuol dire che le scuole debbano essere chiuse almeno che non ci sia una dichiarazione di inagibilità di quelle scuole la vulnerabilità sismica è il risultato della risposta di quella struttura ad un eventuale sisma su tutte le scuole abbiamo avviato progetti che vanno dal miglioramento all'adeguamento sismico e anche persino all'adeguamento alle norme di antincendio che nella maggior parte direi in tutte le scuole mancavano fino a quando noi sette anni fa non abbiamo iniziato ad adeguarle tutte ne abbiamo adeguate almeno un 50% almeno un 50% di scuole sono state ad oggi interessate da lavori di miglioramento adeguamento sismico o di miglioramento adeguamento del sistema antincendio dobbiamo continuare su questa strada lo stiamo facendo con fondi propri ma abbiamo bisogno lo dico oggi che il Presidente del Consiglio è in Abruzzo abbiamo bisogno non delle chiacchiere che spesso fa la Regione o delle promesse che ci fa il Governo nazionale ma di soldi all'interno delle casse non del mio comune ma di tutti i comuni italiani se vogliamo che le scuole vengano adeguate ed ora passiamo alla cronaca Rapina in Villa, Santa Maria in Baro aggrediti e malmenati con un piede di porco moglie e marito che stavano rientrando ieri sera attorno alle 20.30 dalla propria attività commerciale noi andiamo ad ascoltare il racconto del commerciante vittima dell'aggressione abbiamo subito una brutta aggressione ieri proprio nel momento in cui stavamo scendendo dalla macchina io e mia moglie ci hanno aggredito con un piede di porco hanno rotto il finestrino poi ci hanno trascinato fuori ci hanno immobilizzato a tutte e due e poi ci hanno impimato obbligato di aprire la porta di casa e di non far scattare l'allarme però mia moglie prontamente è riuscita a far scattare l'allarme come al solito tutte le donne conservano più il sangue freddo in queste situazioni e loro si vedeva che non erano professionisti si sono impauriti e hanno cominciato a perdere un po' di mano la situazione e sono usciti fuori poi noi in quel sangente abbiamo bloccato la porta ci siamo barricati dentro e loro continuavano là fuori a decidere che cosa fare abbiamo chiamato le forze dell'ordine la vigilanza, l'autombulanza sono arrivati quasi tempestivamente infatti colgo l'occasione per ringraziare tutti che ci hanno aiutato ci sono stati veramente vicini in questi momenti terribili guarda questo è un proprio come devo dire stanno ledendo proprio il nostro diritto di libertà perché non è soltanto a noi come persone ma è a tutta la collettività la comunità locale perché non si può stare più sicuri nelle case proprie perciò invito le istituzioni a prendere qualche provvedimento perché se no tra qualche tempo non so come andremo a finire una litere degenera un 39enne avezzanese ferisce con un bicchiere di vetro un 32enne romano scatta così la denuncia per lesioni aggravate da parte dei carabinieri di Tagliacozzo è accaduto durante la serata finale della rassegna Gironi di Vini il servizio di Daniela Rosone una lite per futili motivi degenerata e così un 39enne avezzanese è stato denunciato dai carabinieri di Tagliacozzo coordinati dal capitano Edoardo Commandè per lesioni aggravate i fatti sono avvenuti nella serata conclusiva dell'evento Gironi di Vini di Tagliacozzo una rassegna enogastronomica molto conosciuta nella Marsica secondo i militari che hanno raccolto le testimonianze dei presenti l'uomo durante una degustazione vicino a Palazzo Ducale ha litigato con un 32enne di Roma una lite degenerata come dicevamo nel giro di pochi minuti tant'è che l'avezzanese ha scagliato un bicchiere di vetro sul viso dell'uomo di Roma fuggendo subito dopo un episodio notato dai presenti che subito hanno chiamato il 112 poco dopo sono intervenuti sul posto i militari ma l'autore del gesto si era già allontanato il ferito è stato curato per ferite e contusioni varie all'ospedale di Tagliacozzo dove gli sono stati riconosciuti otto giorni di prognosi per l'uomo di Avezzano si è proceduto d'ufficio trattandosi di lesioni aggravate Ed ora torniamo purtroppo a parlare dell'incendio del Morrone perché il monte ha ripreso a bruciare questa mattina si è pericolosamente riacceso un focolaio in località Pozzacchio vicino Rocca Casale obbligando il DOS dirigente operazioni di spegnimento a spostare uomini e mezzi sul fronte delle fiamme che si è propagato in una zona molto delicata a ridosso del fuoco ci sono cumuli di materiale combustibile trascinati sul costone della montagna da una seconda slavina caduta negli anni scorsi e subito dopo ci sono le prime case del comune di Rocca Casale sono al lavoro ovviamente 50 uomini e i canadeir per cercare di contenere le fiamme e cambiamo argomento adesso sarà un autunno caldo per la politica pescarese che si appresta a discutere del progetto di riqualificazione delle aree di risulta davanti alla stazione centrale il Movimento 5 Stelle ha prodotto delle osservazioni che andiamo ad ascoltare nel servizio il progetto di riqualificazione delle aree di risulta di Pescara deve passare obbligatoriamente dal Comitato Via Regionale e quanto sostiene il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Pescara critico nei confronti degli aspetti procedurali e tecnici del progetto che in autunno arriverà nell'aula del Consiglio Comunale criticità che i 5 Stelle hanno condensato in un documento di osservazione al progetto a partire dalla strada sotterranea che per l'assessore civitarese è una strada di quartiere mentre secondo il codice della strada dicono i grillini è una strada urbana di scorrimento pertanto automaticamente soggetta via a norma di legge invece abbiamo visto che questo progetto viene in qualche modo sottoposto ad una valutazione quindi del fatto che si possa o meno mandarla a valutazione di impatto ambientale e questo dal nostro punto di vista è sbagliato poiché la via da legge risulta già obbligatoria e quindi si sarebbe già dovuta fare oltre a questo abbiamo evidenziato una serie di caratteristiche di criticità che riguardano la documentazione cioè carenza di documentazione perché lo studio di fattibilità che deve essere inviato a via deve contenere delle verifiche specifiche che non sono presenti il Movimento 5 Stelle si sta preparando alla battaglia in consiglio comunale anche attraverso una assemblea pubblica che si terrà nei prossimi giorni non piace la predominanza del privato nel progetto preoccupano aspetti non considerati come la qualità ambientale o l'inserimento del progetto nella mobilità urbana i grillini temono che vengano sprecati 12 milioni di euro del masterplan sui 40 totali necessari alla riqualificazione dell'area di risulta e chiedono che tutte le forze politiche vengano coinvolte nel luogo deputato alla discussione il consiglio comunale che fino ad ora non è stato sentito nemmeno con un atto di indirizzo proprio un grande errore proprio nella procedura nella strategia da parte di chi governa la città in questo caso quello che è stato preso in considerazione è stato il solo ed esclusivo aspetto economico che se deve esserci assolutamente per la fattibilità di un progetto non può essere l'unica clausola l'unica cosa da prendere in considerazione perché il centro della città e lo sviluppo per i prossimi tentanei della città ha obiettivi maggiori che non la sola fattibilità economica dei tempi presenti Adesso ci spostiamo a Teramo da oggi da qualunque luogo del mondo la biblioteca delfico di Teramo sarà visitabile virtualmente a 360 gradi sulla piattaforma Google Maps una tecnologia innovativa usata ad esempio nel museo degli uffizi di Firenze andiamo a vedere di cosa si tratta nel servizio di Tania Bonici Castelli La biblioteca delfico di Teramo tra le più antiche e prestigiose del centro Italia sarà visitabile virtualmente in tutto il mondo grazie ad una nuova tecnologia che prevede l'utilizzo della nota piattaforma Google Maps in un clic si potrà avere la visione a 360 gradi di tutto il suo patrimonio interno un'esperienza unica adottata solo da grandi realtà museali come gli uffizi di Firenze semplicissimo basta andare o sul sito dell'istituzione stessa della biblioteca oppure direttamente su Google Maps e tutte le piattaforme di Google Google Street View e si può visitare virtualmente la biblioteca e in particolare le sale più belle della biblioteca che sono sia artisticamente architettonicamente molto rilevanti e poi ovviamente custodiscono dei volumi incredibili questo ci dà la possibilità 7 giorni su 7 24 ore su 24 365 giorni l'anno di poter visitare l'istituzione forse più importante e culturale una delle più importanti del nostro territorio e sicuramente questo rappresenta una promozione importante del nostro territorio assolutamente questa è una delle forme più importanti veloci e potenti per promuovere il nostro territorio per poter permettere ad ogni persona del mondo di vedere quante sono e di quale qualità sono le bellezze che il nostro territorio offre in questo grande progetto di promozione territoriale hanno giocato un ruolo importante i volontari della Delfico 6 studenti del servizio civile della provincia di Teramo che hanno collaborato alla digitalizzazione del patrimonio cartaccio e audiovisivo della biblioteca tu stai digitalizzando un po' del patrimonio della biblioteca provinciale di Teramo precisamente che cosa? allora diciamo che mi sto occupando del comparto audio quindi bobbine degli anni 40-60 il fondo è quello di Fernando Aurini che è stato un giornalista importante per la RAI sto cercando di digitalizzarle in mp3 formati fruibili per poi farle sentire diciamo a tutti la biblioteca Delfico rappresenta Teramo un luogo vivo e di studio per tanti giovani ha sottolineato il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino un punto di riferimento culturale che oggi conta 9.000 iscritti a Pescara si è conclusa con la consegna di un assegno da 25.727 euro la campagna promossa dal Banco Alimentare Abruzzo denominata giungi 14 posti a tavola basta un euro sono state premiate anche le cassiere che hanno raccolto più fondi con tre biciclette donate a loro dal Banco Alimentare vediamo 25.727 volte grazie e tanti sono stati cittadini abruzzesi che hanno aderito alla campagna del Banco Alimentare in collaborazione con Iper intitolata aggiungi 14 posti a tavola basta un euro i 25.727 euro raccolti nel punto vendita della grande distribuzione a Colonnella e donati al Banco Alimentare questa mattina attraverso la consegna di un assegno si trasformeranno in oltre 360.000 pasti che saranno distribuiti alle 47.000 persone indigenti assistite tramite i 241 enti convenzionati con il Banco Alimentare Abruzzese aggiungi 14 posti a tavola dono un euro e il calcolo che noi con un euro riusciamo a produrre tra virgolette perché quello riusciamo a raccogliere 14 pasti che è l'equivalente di 7 kg noi ringraziamo la grande I che ci ha dato questa opportunità ringraziamo i clienti della grande I che hanno aderito 25.727 volte e soprattutto ringrazio i miei collaboratori e i nostri volontari che poi ci permetteranno di distribuire in tutta la regione i pasti che abbiamo raccolti i prodotti alimentari che ci permetteranno con questa cifra qua di continuare a raccogliere e a distribuire tra pochi giorni ricorre il ventennale della fondazione del Banco Alimentare siamo all'interno di questo capannone a Pescara vogliamo raccontare che cosa fa il Banco Alimentare il Banco Alimentare nasce 20 anni fa con la prima giornata nazionale della colletta alimentare in realtà lavora tutto l'anno 365 giorni l'anno ed è aperto tutti i giorni noi raccogliamo prodotti alimentari dalla grande distribuzione organizzata dall'azienda dell'agroalimentare e li distribuiamo a circa 191 strutture in Abruzzo che si occupano della povertà vanno dalle mense per i poveri alle case d'accoglienza alle caritas parrocchiali ad associazioni che fanno pacchi alle famiglie questo grazie soprattutto ai volontari abbiamo circa una quindicina volontari che costantemente ci danno una mano e che ci permettono di poter rispondere a questi bisogni ringraziamo l'Abruzzo il popolo abruzzese perché questo anniversario dei nostri vent'anni che tra l'altro cade il 9 settembre ci ha permesso di incontrare altre persone di incontrare altri sostenitori e tra virgolette anche di festeggiare insieme per questa grande opera che oramai è presente da vent'anni nella regione Abruzzo e sempre a Pescara nascerà nei primi mesi del 2018 la nuova ricicleria con l'obiettivo di far crescere la percentuale di raccolta differenziata in città i costi dell'impianto saranno a carico della regione e di Attiva il consiglio comunale all'unanimità ci tengo a dire anche l'opposizione ha votato questa delibera è stato approvato il progetto definitivo con la variante al piano regolatore della seconda ricicleria della città di Pescara ma è fondamentale per noi questa infrastruttura che si lega ad una serie di infrastrutture che il comune di Pescara insieme ad Attiva sta portando avanti il centro per il riuso per esempio è una di queste abbiamo acquistato la piattaforma di Alanno quindi ci sono una serie di infrastrutture che sono da supporto a quella che è poi la raccolta differenziata porta a porta che abbiamo iniziato con estendimenti sette estendimenti annui e noi contiamo ai primi mesi del 2018 di portare la città di Pescara al 52% di persone che fanno la raccolta differenziata Pescara parte male parte con un gap molto molto in ritardo rispetto alle altre città ma stiamo recuperando stiamo recuperando bene i lavori inizieranno diciamo da subito una volta predisposta l'area che va sgombrata da alcuni terreni di risulta poi va attrezzata in modo da essere diciamo raggiungibile da camion auto o quant'altro e poi vanno costruite delle semplici infrastrutture che consentono sostanzialmente lo smistamento del rifiuto l'immagazzinamento di alcuni container che servono una raccolta di rifiuti stessi quindi noi pensiamo nei primi mesi del 2018 tra gennaio febbraio di essere pronti a partire con la nuova ricicleria il costo sostanzialmente in parte viene finanziato dalla regione e in parte viene diciamo corrisposto da noi come attiva come diciamo branch del comune di Pescara quindi immaginate il costo totale che abbiamo stimato se aggiri attorno a 400 mila euro tra 4 e 500 mila euro il Porsche Club Abruzzo Molise ha organizzato per il 9 e 10 di settembre un viaggio di due giorni attraverso i luoghi feriti dal terremoto si tratta del primo Porsche Rally Inter Club dei Parchi d'Abruzzo un'iniziativa nata per onorare la campagna nazionale viaggio nel cuore dell'Italia andiamo a vedere un viaggio di due giorni in programma il 9 e 10 settembre lungo le strade più suggestive del Parco Gran Sasso e Monti della Laga per essere vicini ai luoghi feriti dagli ultimi terremoti l'iniziativa è del Porsche Club Abruzzo Molise che ha organizzato il primo Porsche Rally Inter Club dei Parchi d'Abruzzo nell'ambito della campagna nazionale viaggio nel cuore dell'Italia noi siamo del Porsche Club Abruzzo Molise e a prescindere dal piacere delle nostre auto però abbiamo l'affetto per la nostra regione il nostro è un tentativo una piccola goccia però è un tentativo di dare una mano al turismo anche ferito oltre che le nostre zone ferite e per questo abbiamo progettato questa manifestazione siamo 50 macchine abbiamo aperto le iscrizioni al mattino chiuse la sera per sold out ma il nostro intento questa non è la fine con la manifestazione non finiremo il nostro progetto non lo concluderemo ma inizierà un progetto molto più ampio perché ho intenzione di portare 100 150 auto quindi 300 persone nelle nostre montagne si parte la mattina di sabato 9 settembre dall'Aquila direzione Capannelle per giungere fino a Campotosto e poi a Torricella Sicura Teramo e a Giulianova domenica 10 settembre invece è prevista la partenza alla volta di Campo Imperatore per raggiungere Capestrano dove in programma una colazione nell'antico convento di San Francesco ci sono tante persone che non conoscono il porto della provincia di Teramo e della città capoluogo l'Aquila e che in questa occasione avranno modo di conoscerla il Porsche Club Abruzzo Molise si impegna anche a realizzare un filmato e un calendario con le migliori foto delle due giornate dal titolo Porsche nel cuore d'Abruzzo materiale che sarà distribuito ai club europei allo scopo di incentivare il turismo nella regione verde d'Europa crediamo di poter riproporre soprattutto in qualche modo arricchire la proposta di Open Day Abruzzo nell'edizione Winter che sarà nel Ponte dell'Immacolata l'8 di dicembre e in questo modo speriamo anche di dare corso all'accordo di programma e al protocollo firmato da me dal direttore generale del MIBACT Nini Cutaia per quanto riguarda le attività di spettacolo da mettere in corso nell'area cratera e soprattutto nel Terramano con una cifra abbastanza concura che ha grandissimi nomi della cultura nazionale e internazionale Noi stiamo facendo moltissimo un lavoro sulle aree interne che sono decisamente molto più importanti di queste cose che capitano e che dovevano c'è tutto un disegno io stesso mi occupo anche della quinta area che abbiamo messo in modo che è quella del Gran Sasso dei Monti della Laga e questo rapporto insomma sta venendo fuori Ed ora siamo allo sport nel Pescara recuperano Bovo e Fornasier ma restano fermi Latte Latte e Mancuso che salteranno anche il match di dopodomani con il Frosinone rientrano dalle convocazioni nelle giovanili nazionali del Sole e Capone quest'ultimo potrebbe trovare spazio nel famoso tridente di Zemani in attacco ballottaggio fra Pettinari e Gans andiamo ad ascoltare adesso il neocentrocampista senegalese Frank Canutè che si presenta e dice mi ispiro a Vieira volevo fare tipo un altro anno alla Juve la primavera perché ho giocato solo tre mesi quindi dovevo fare anche altri tipo sei mesi poi magari a gennaio andavo a giocare con i grandi però alla fine è venuto a Pescara mi sono venuto qua sono contento di essere qua con il tempo vedete come ho caduto tanto io non mi piace parlare tanto però mi piace dimontrarlo in campo in Senegal andavo a scuola però dopo dopo la scuola andavo sempre a giocare con dei amici giocavo sempre era un mio sogno per diventare un giocatore tipo da bambino sono arrivato qua per le vacanze perché sono diplomato in francese mi hanno detto vieni in Italia da mio zio che sta a Milano per fare le vacanze tipo tre due mesi e poi ritorno in Senegal per iniziare la scuola ancora per fare l'università però da lì mi hanno detto non devi più tornare devi stare qua se no non lo so qualcosa che ti piace tipo come il calcio se no continuo a studiare italiano io ero tipo in Toscana mi allenavo da una squadra dilettante tipo Pietrasanta allenatore Cristiano Zanetti e lui il primo giorno che sono stato lì a fare i provivini anche lui c'era però non hanno preso eravamo i tre senegalesi io Bashir e quelli vari abbiamo preso solo noi due e poi lui mi ha detto di no io gli avevo detto da quelli giorni che non l'hanno preso ho detto fra non devi mai mollare che sei forte magari un giorno troverai la tua possibilità e tu a chi ti iscrivi io a Daviera Patrick Guiera il mio idolo ora parliamo del Teramo il centrocampista piemontese Giovanni Graziano uno degli ultimi arrivi in casa del Teramo racconta come è arrivato in Abruzzo e spiega meglio quali sono le sue caratteristiche sul terreno di gioco è stato diciamo un ottimo esordio sia di squadra ma per lo più personale è stato un passaggio alla disperata che alla fine si è trasformato in un assist poi vabbè ovviamente è stato bravissimo Antonio ha fatto una grande giocata un gran gol però è stato un punto conquistato soprattutto alla fine all'ultimo secondo e questo deve farci capire che non bisogna mollare mai fino alla fine e non mollare fino all'ultimo diciamo che mi conosce perché ci siamo incrociati non per via diretta ma mentre lui allenava la primavera io ero ancora negli allievi nazionali ero ancora nelle categorie inferiori a Torino sono contentissimo di essere arrivato qua e spero di dare una mano e un contributo importante alla squadra io fin da ragazzino nasco come mezzala di destra di sinistra però negli anni mi sono anche adattato a fare il regista il metodista l'incontrista davanti alla difesa quindi posso ricoprire tranquillamente tutti e due i ruoli andiamo a Vicenza dove c'è un tifo molto caldo siccome ci saranno quasi 6.000 7.000 persone arrivano da due vittorie importanti una squadra attrezzata che ambisce alle prime posizioni quindi è un'ottima sfida molto stimolante ci sono due barra tre giocatori per ruolo io spero spero già anche la scorsa partita col Mestre sono riuscito ad entrare verso la fine sono riuscito a dare il mio contributo poi se sarà dall'inizio partita in corso ovviamente spero è meglio per me a inizio partita però se sarà partita in corso io cercherò sempre di farmi trovare pronto e di dare una mano alla squadra spero di trovare spazio però in qualsiasi caso io mi farò trovare sempre pronto sinceramente sapevo di dover fare anni di gavetta però ho qualche rimpianto ma solo personale su qualche atteggiamento che magari tornassi indietro cambierei durante le settimane atteggiamenti che ho avuto nei confronti di addetti ai lavori tipo mister che ho avuto lì a Torino però sapevo che sarebbe stato faticoso comunque che avrei dovuto fare anni di gavetta in Lega Pro però qualche atteggiamento mio personale non lo rifarei prima di chiudere una notizia che riguarda il Francavilla siamo alla Serie D scossone in casa giallorossa il centrocampista ed ex capitano Matteo Medizia classe 93 assieme al centrale di difesa Manuel Di Lallo classe 96 lasciano la casacca del Francavilla entrambi nello scorso torneo di eccellenza sono stati protagonisti della cavalcata verso la Serie D culminata con la finale playoff nazionale persa con il Fabriano Cerreto e poi con il ripescaggio di quest'estate Milizia cresciuto nelle giovanili del Francavilla vanta al suo attivo 280 presenze con la casacca adriatica di Lallo invece scuola pescara nello scorso campionato è stato per rendimento fra i migliori della eccellenza abruzzese è tutto anche per l'edizione della notte del TG6 i prossimi appuntamenti con la nostra informazione domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con le tre edizioni canoniche del telegiornale alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per averci seguito vi auguro la buonanotte grazie per la visione